Gentili telespettatori, buona giornata. E avevo visto giusto, insomma, possibile che solo io mi ero accorto di questo? Di che cosa? Quando Maria Rosaria Boccia diceva che il gossip lo ha fatto lui, San Giuliano, lei o un'altra persona. Ecco, lei dice, nel mio ultimo post parlavo di un'altra, non persona ma di un'altra, che ha bloccato la mia nomina e mi riferivo proprio a lei, a Giorgia Meloni. Ce l'ho con lei perché mi ha chiamato in un'intervista a una certa persona, mi riferivo proprio a lei, quell'altra che ha bloccato la mia nomina. Allora, 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 allora. Quando vi ho detto che quell'altra, secondo me, era proprio la Meloni, l'ho detto solo io. Non ho visto un giornalista, un opinionista, nessuno dire, guardate che si sta riferendo alla Meloni. Voi direte che è poco importante, chi se ne frega. Però, visto che è l'argomento principale, ed era ieri, sulle prime pagine di tutti i giornali, come titolo più importante, notizia più importante, se questa signora si riferisce a Giorgia Meloni avrebbe dovuto qualcuno accennarlo. Forse è perché io mi occupo di politica 6-7 ore al giorno, forse è perché leggo tutti i giornali e sono un po' più allenato degli altri, degli stessi giornalisti che magari hanno altre cose da vedere, da pensare. Forse è perché ho tutto questo tempo che passo ogni giorno leggendo e parlando di politica, forse mi fa vedere le cose un po' più chiare degli altri? Probabilmente. Perché se andate a guardare i miei video di ieri, ve lo raccontavo, no? La Meloni ha chiamato una certa persona, non ha chiamato Maria Rosaria Boccia, infatti lei ha detto subito, io ho un nome, un cognome e anche un titolo. È due volte laureata, quindi ufficialmente la dottoressa Maria Rosaria Boccia da Pompei. Da Pompei lo possiamo aggiungere o anche togliere. Dottoressa Maria Rosaria Boccia. ha fatto poi un'intervista con la stampa, poi ha telefonato più volte sulla 7. Perché la Beloni l'ha chiamata una certa persona? Probabilmente per non dargli più visibilità di quella che ha ottenuto, per non dare la soddisfazione di essere nominati dal capo del governo. Allora, di solito quando non si vuole dire il nome di una persona si dice beh, quella persona lì ha detto, non voglio fargli pubblicità, non dico il suo nome, dico una certa persona. È un po' come il fatto quotidiano quando parla di Berlusconi Silvio, lo ha sempre scritto B. Non ha mai scritto Berlusconi perché era l'innominato, ma più che l'innominato non volevano dargli pubblicità. Come se Berlusconi avesse avuto bisogno della pubblicità del fatto quotidiano che scriveva il suo nome e lui diventava più famoso. E' come se io non pronunciassi il nome di Ellie Schlein, ma dicessi una certa persona che guida il PD. Sarei un po' sciocchino. Perché? Ah no, ma lo faccio per non dargli visibilità. Ah perché? Se io la nomino a più visibilità, se non la nomino a meno visibilità, dai, insomma, dai, non scherziamo, ecco, non scherziamo. Quindi evidentemente la Meloni non voleva dare pubblicità a questa dottoressa e l'ha chiamata, credo una volta sola, una certa persona. Io se fossi stata nella Meloni avrei chiamato la dottoressa Boccia, non avrei avuto nessun problema a dire la dottoressa Boccia. Non vogliamo mettere i titoli? Non vogliamo mettere i titoli? Perché il titolo fa un po' cafone? Ecco, anche a me non sono mai piaciuti i titoli. Il dottore, la dottoressa, il professore, la professoressa, il marchese, la marchesa, il principe, i titoli secondo me sono un po' cafonal. C'è chi invece ci tiene? C'è invece chi ci tiene? A me era successo quando ho fatto 18 anni, per qualche mese ero andato a lavorare al concessionario Fiat che c'è ad Arona e un giorno parlo col proprietario, non mi ricordo neanche come si chiamava e lo chiamo per cognome. senta, non mi ricordo il cognome, questo mi dice guarda, guardi che io sono il dottor eccetera eccetera. Io volevo dire, ah però, senti questo, che ha bisogno di sentirsi dire dottore. Io ho sempre diffidato di chi ha bisogno di sentirsi dire dottore o dottoressa il titolo e ne ho conosciuti nella vita, di gente che da sola si metteva sul cellulare o anche su facebook dottor Marco, no, proprio quelli che da soli si chiamano, si autoproclamano, si chiamano, ho capito che hai il titolo, però oggi chiedere agli altri o dire guarda che io sono dottore, quel voler distinguersi, secondo me è davvero cafone, di una cafonata pazzesca. Però, insomma, in alcuni casi, per esempio, dottoressa Boccia per me poteva anche andare bene, no? Però si poteva chiamare la Boccia, Maria Rosaria Boccia, dottoressa Boccia, come volete. Sul fatto che la Boccia dica che la Meloni l'ha chiamata una certa persona perché è un comportamento sessista, secondo me lei sta cercando di alimentare un fantomatico scontro con la Premier, ma la Premier non cadrà nella provocazione. La Meloni l'ha chiamata una certa persona non per comportamenti sessisti, ma semplicemente per non farle pubblicità. E poi dire che la Meloni ha bloccato la sua nomina, questa non si può sentire, questa non si può sentire, no? San Giuliano che vuole nominarla consigliere gratuito, lui stesso dice mi sono poi consigliato con dei legali, il capogabinetto abbiamo detto meglio di no, visto che c'è una relazione, immaginare che sia stata la Meloni, secondo me anche questo è un tentativo di far parlare di sé, di avere una sorta di scontro con la Premier, un sogno, la Premier che si scontra con me, ha paura che si spengano i riflettori molto presto e allora punta a cercare di accrescere la sua fama. Vabbè, il mondo diciamo che è pieno di queste storie, pieno di queste storie. Arrivederci a tutti e grazie.